Sì, vado fuori, però di solito così, guarda, lui si difende, io qui vengo, hop, vai, io vedi subito, hop, hop, e avanti, questo è un po' tranquillo, io vado, pian piano io andrò dove mi serve, avanti, e chiudo, dai, vado, questo è importante, di capire che la tua presa si trasforma in tuo loco. Dai, veloce, abbiamo ancora un po', spinge, 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 spinge. Ok, cominciamo. Qua serve legerezza e... Destra. Guarda, atti se non tanto attaccato, no, 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 no. Guarda, atti se lo faccio. Aspalla, insieme con un passare guarda, spie tutto qui. Ora io ston qui, stavo qui. Sto qui. Tiro, tiro, posso andare anche qui. Vedi. Voi prendi. Hop... Qui va là qui. Hop. E perché non si sono andata dall'altra parte? Sì, perché ti mostro che c'è la pinza destra. Lavoriamo solo questo pa per passare, perché quando sai che quando passi si chiude, si sente molto più libido, è libero il calo. Non devi andare indietro, questo non è...